Le Beatitudini secondo l'Evangelista Matteo Dopo il capitolo delle tentazioni di Gesù nel deserto, sintesi delle insidie con le quali Satana cerca di sviare la nostra via, ecco la luce divina di una sapienza nuova che capovolge tutte le idee effimere che si avevano della felicità e mostra la vera via di quella Beatitudine temporale ed eterna cui l'uomo aspira. Come Mosè promulgò la legge avuta da Dio su di un monte e si ritirò nelle altezze per ascoltare meglio la voce divina, così Gesù Cristo volle promulgare la nuova legge da un monte e perciò il suo discorso è detto della montagna. Gli apostoli, i discepoli e il popolo seguirono il maestro divino e si disposero intorno a lui per ascoltarlo. Non attendevano altro in quei momenti preziosi, non domandavano altro. I grandi condottieri o animatori di folle parlano quasi sempre sollecitando gli interessi materiali o l'orgoglio delle masse. Gesù Cristo invece parla la parola della verità e quel che è più della verità che più contrasta le aspirazioni terrene, additando come meta della Beatitudine e della gloria quello che comunemente si crede meta di infelicità e di obrobrio. E questa è infatti la caratteristica delle divine parole di Gesù Cristo. Esse, nella loro dura espressione, non sono in armonia con quello che la natura umana, fragile e presuntuosa nel medesimo tempo, crede un bene. Eppure additano, anche umanamente parlando, la vera via della Beatitudine temporale ed eterna. Approfondite alla luce di Dio sono un programma della conquista eterna e approfondite anche alla luce della ragione sono una filosofia altissima, per così dire una rivelazione delle vere condizioni alle quali l'uomo può conquistare la libertà interiore e la pace, dominando tutti gli ostacoli che vi si frappongono. La Beatitudine vera di chi peregrina in terra L'uomo tende alla Beatitudine, alla piena felicità, alla gioia, perché fu creato da Dio per goderne eternamente. L'essenza medesima del fine per cui viviamo è questa, poiché il Signore ci ha creati per la sua gloria e per renderci sua voce di gloria, ci riempie della sua grazia. Nel compimento poi della sua volontà, che è sommo bene, ci comunica la sua felicità. La Beatitudine quindi sta tutta in Dio ed è da Lui solo che la si può attingere. Sta nella conoscenza delle sue perfezioni e nel compimento della sua volontà. La Beatitudine è un premio e come tale suppone la prova. Perciò prima di raggiungerla eternamente in cielo, noi subiamo la breve e passeggera angustia della vita presente. Questa angustia tende ad addentrarci alla ricerca di Dio, alla sua conoscenza, al suo apprezzamento e al compimento della sua volontà. La vita quindi è più gravosa quanto più è impigliata nell'ambito della terra ed è più beata quanto più se ne distacca. Se si vuole essere giusti, bisogna confessare che nel mondo il reparto più colmo di infelicità è proprio questo che appare come una meta delle aspirazioni umane. Chi ha raggiunto una vetta scoscesa, strapiombante nell'abisso, sembra un dominatore a chi lo guarda da lontano, ma egli solo conosce le vertigini di quella posizione sulla quale non vorrebbe essere mai giunto. Da quelle altezze non si va oltre, si discende e la discesa ha sempre la vertigine dell'abisso. Tutto quello che è eccessivo nella materia dà la pena dell'indigestione e tutto quello che pretende di riempire la capacità dello spirito con la materia dà lo spasimo dell'avvenellamento. Gesù Cristo, vedendo la moltitudine che lo seguiva e scrutando da Dio tutti quei cuori più o meno colmi di amarezze, salì su di un monte per cominciare a portarli in un'atmosfera di maggior pace, per dar loro un primo saggio di quella beatitudine che voleva proclamare. Là regnava la solitudine e, essendo in luogo molto fertile, vi ispirava quell'aura di pace che circonda le campagne, opera di Dio che non può essere deformata dalla mano dell'uomo. Si fermò e si pose a sedere, sia per stare più paternamente in mezzo ai suoi figli, sia per invitarli a sedere anch'essi sui sagginali naturali o sull'erba. Volge lo sguardo su quella montitudine di anime semplici, la paragonò alle folle orgogliose del mondo, vide l'enorme differenza che vera fra la vita semplice e quella complicata, vide la bellezza di una vita ancora più semplice, libera dagli impacci superflui della vita presente e tutta tesa verso le grandezze della vita eterna, ed esclamò, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il suo regno non aveva a che fare con le grandezze politiche, non si fondava sulle ricchezze o sulla gloria terrena, ma sulla rinuncia i desideri fugaci della vita e sull'aspirazione ai beni eterni. Povero di spirito è chi volontariamente abbandona i suoi beni per abbracciarsi senza ostacoli al sommo bene. Povero in spirito è soprattutto chi confida in Dio solo e stima come nullità le cose presenti, fissando sempre gli occhi sulla dolce paternità del Signore, uniformandosi alla divina volontà e confidando nel Signore.